Sono pizza al taglio con il suo trancio di pizza con pancetta di zibello, mozzarella a fior di latte e aceto balsamico, Archer con la sua degustazione di rosé de noir, chiarli e mozzabella con la pizza a scelta farcita con pomodoro biologico, burrata e pomodorini, i vincitori dell'edizione di Primavera 2019 di Stuzzicagente. A decretare la giuria popolare che attraverso le schede ha valutato tutte le proposte dei tre menu, tradizionale, street food e viaggi nel mondo. Dunque questi tre piatti preferiti tra i 27 locali partecipanti al tour enogastronomico tra ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie locali del centro storico andati in scena domenica 26 maggio nella sua 17esima edizione. E come in quella precedente, oltre alla giuria popolare era presente anche una giuria di qualità. In questa sezione conferme di premi per pizza al taglio e Archer, ma riconoscimenti anche per il caffè solni con il suo tradizionale gnocco fritto e per al goblè con la sua birra piccola, chiara, artigianale ed abazia. Un'edizione di Stuzzicagente, la 17esima, era partita un attimino con un maltempo che poteva dare qualche problema. In realtà, come sempre, la gente è a corso numerosa e la manifestazione ha avuto un ottimo successo. Chi è stato premiato? E' stato premiato chi ha raccontato qualcosa. Perché comunque cibo è cultura e cultura significa raccontare un attimino quello che è il prodotto e quello che è la nostra storia.